Stasera in Piazza Emanuele Filiberto abbiamo avuto il primo appuntamento di quello che è il Festival della Cultura Contemporanea e Porta Palazzo. In particolare questo è stato il primo appuntamento del Festival Outsider, una serie di incontri che servono da preludio al Festival vero e proprio che invece si terrà in autunno. È un momento in cui la città può incontrare i talenti di Porta Palazzo e stasera abbiamo proposto un'attività di poesia e musica. Ci saranno altri appuntamenti sempre misti sulla zona sia di Porta Palazzo che su altre zone della città di Torino in cui speriamo appunto di far incontrare e di avere un pubblico sempre più numeroso per i talenti del territorio. Il Festival vero e proprio invece si comporrà di percorsi artistici in linguaggi diversi come musica, teatro, scrittura creativa, video eccetera, gratuiti per i ragazzi dai 15 ai 30 anni quasi e questi percorsi vogliono appunto essere una proposta per far sapere che Porta Palazzo c'è, è presente ed attiva sulla vita culturale della città di Torino e soprattutto ci sono tanti talenti su questo territorio che hanno voglia di potersi esprimere ed è per questo che diamo il via a questa serie di appuntamenti e vi aspettiamo numerosi anche al Festival che si terrà in autunno. Grazie! Grazie! Grazie!